Ed eccoci qua, in terza C, durante la lezione, il professore non si è accorto della mia presenza. Ecco Umberto Badaracco, Nicola Corongio, Federico Malinchetta ed ecco Luca Masia, che fa leggere una cosa a quel cinghiale di Monaghetto. Ed ecco, noi siamo qua, per esempio. Allora, signori, è già passata mezz'ora e io sono ancora qua. Adesso dobbiamo passare un'altra mezz'ora, il modo migliore è messo a tenere un colo. Affracciamo un colo. Luca, vieni. Allora, iniziamo piano, con un enfasi. 3, 2, 1. Vai con le mani. Il colo, il colo. O cazzo e me il frate, o cazzo e me, o cazzo e me. O cazzo e me, o me, o me, o me. O cazzo e me, o 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 me. Cos'è tu? Non è bello. Beh, fratello. Una cosa rimase certa. Rimase certa. La mamma di Monaghetto è di tutti. E Mario Mandras e Frocio. È anche rotto in colo. Grazie.